Il pluricampione del mondo Peter Sagan e il direttore di radio DJ Linus sono attesi al Tempio del Ciclismo, il Museo del Ghisallo, sul colle dove Fiorenzo Magni volle collocare un tempio laico della bicicletta. Lunedì 31 maggio a mezzogiorno, a Giro d'Italia appena concluso, avrà luogo l'ultimo atto del premio internazionale intitolato a Vincenzo Torriani, per chi ama il ciclismo e lo fa vivere, edizione numero 23. Il riconoscimento intitolato all'indimenticabile patron del Giro, scomparso 25 anni fa, avrebbe dovuto essere conferito il 26 ottobre, sempre a Magreglio, poi è stato rimandato a causa della situazione sanitaria. Finalmente quindi si assegna l'edizione 2020 che consacra tre figure di spicco, Peter Sagan, tre volte campione del mondo e vincitore lunedì in volata della tappa di Foligno del Giro d'Italia, Linus, direttore di radio DJ e grande appassionato di ciclismo, non è raro vederlo pedalare sulle strade del Lago di Como e Pier Augusto Stagi, tra i più noti giornalisti di ciclismo. Nella stessa occasione lo speciale riconoscimento Cuore d'Argento, promosso dall'associazione Emilio Aldo De Martino, assegnato ogni anno a un innamorato del ciclismo, andrà a Dino Zandegu, grande sprinter degli anni 60. Il premio Torriani, voluto dai figli del patrone sotto legida di RCS Sport, la Gazzetta dello Sport, consiste in una statuetta di bronzo raffigurante un corridore stilizzato, realizzata dallo scultore Domenico Greco. La cerimonia si svolgerà in presenza con collegamento online, ma la partecipazione sarà riservata ai suoi invitati accreditati in forza delle disposizioni anti-contagio.